Chi è Gianmarco Centinaio? Sicuramente un militante della Lega Nord, iscritto alla Lega Nord dal 1990, dal lontano 1990, militante dal 1994, un militante che ha fatto tutta la trafila all'interno del movimento per poi arrivare a fare il capogruppo in Consiglio Comunale per la Lega e dal 2009 vice sindaco e assessore alla cultura a Pavia e ora questa esperienza al Senato. E nella vita privata? Nella vita privata, è una persona normalissima come mi conoscono tutti, amo andare in moto, mi piace lo sport, mi piace fare un po' di tutto e sono una persona molto curiosa. Perché è entrato nella Lega Nord? Nella Lega Nord sono entrato proprio nel 1990, avevo 17 anni, ero un ragazzino e mi ricordo di un manifesto su un cartello pubblicitario dove si parlava appunto del federalismo, si parlava appunto di Roma ladrona e da 17 anni rimasi un po' stupito appunto di quello che veniva detto perché erano le stesse cose che si dicevano in casa mia e quindi ci fu questo avvicinamento alla Lega e penso che sia stata la miglior scelta della mia vita. Di quali tematiche in particolare si vorrà occupare qui al Senato? Beh, io sono un esperto nel campo del turismo perché sono un direttore commerciale di un tour operator e mi occupo anche di cultura e turismo nel comune dove abito, da Pavia e quindi penso che molto probabilmente sarà questa la mia delega proprio perché è la competenza. Io penso sempre che non si può essere dei tuttologi nella vita e quindi bisogna sicuramente portare in politica quelle che sono le proprie competenze nel campo professionale. Grazie.